e oggi sto qui al confessionale del Bale del Triangolo insieme a Doneuro che è il parroco della chiesa che io frequento perché sinceramente non mi va che la gente dice delle cose male su di me e quindi voglio insomma fare un po di outing che io Doneuro ultimamente sono invidioso, sono invidioso ai sesto terribili perché sesto terribili c'è la Ferrari che va a gas quindi c'è una bella macchina e risparmia pure e io invece c'ho la Ritmo e questo un po' mi dà fastidio ma perché Pier Massimo ma perché devi essere così invidioso? tu devi sapere che oggi come oggi chi c'ha i soldi le persone gli emanna le paralisi capito perché è gelosa e al suo volta sono invidiosa dell'altra persona e tu invece fai i debiti, tu indebita questi pochi soldi che c'hai danni a Donneuro perché tu io sai che io te risetto tu li dai a me io te salvo te copro da tutti e da tutto fai i debiti alla gente che gli devi ridare i soldi e loro te prega la salute perché gli devi ridare i soldi se dopo mori glieli puoi ridare quindi tranquillizzati non essere invidioso fai i debiti perché se fai i debiti la gente vi prega la salute se invece c'hai i soldi ti emanna le paralisi guarda a me che non c'è una lira e non ci guadagno niente non ci guadagno niente